Documenti a posto, permesso di soggiorno, libretto di lavoro come Colf. Solo che il datore di lavoro sul libretto è un vecchietto di 90 anni che dice di non averla mai sentita nominare. Sì, secondo l'ufficio sanitaria era sparita dalla strada almeno da un anno. Certo, era abbastanza bella in gamba per potersi trovare un fidanzato o mettersi in proprio con tre o quattro clienti speciali. In ogni caso avrebbe dovuto pagare a Byron un sacco di soldi per potersi riscattare. Beh, lei non glieli dà e lui l'ammazza. Byron ha un alibi. Eh, mica l'ha fatto di persona. Come fai a esserne così sicuro? Ho visto come è stata ammazzata la ragazza, dottoressa. Ho anche visto il negozio. Amuleti, vasi per gli spiriti, roba magabra, quella è una firma, eh? Ma che ne sai dei costumi africani? Appunto, vorrei saperne qualcosa di più. Dottoressa, ci dia un mandato e le faccio vedere che quel Byron lo ha anche a stare a non batter d'occhio. Beh, rispettore, in altre circostanze io questo mandato forse glielo avrei anche dato. Il guaio è che lei questa inchiesta non l'ha nemmeno iniziata e abbiamo già contro tutte le comunità nere di Bologna. Che senso? Ispettore, li legge mai i giornali? Sì, qualche volta... Guardi, guardi, c'è anche una sua foto. Lo capisce da solo che dopo questo brillante ragionamento secondo il quale una ragazza nera uccisa non può altro che essere una prostituta diciamo che darle carta bianca sarebbe quantomeno incauto. Ma cosa sei? Scemo! Quella stronza... Ma com'è ti è venuta in mente? Eh? Le avevo detto di non scriverlo. Ecco, vedi, rispettore, io speravo che lei fosse arrabbiato perché le sue parole erano state travisate. Ah, beh, certo anche. Mica io andavo a dire cose... Dejan, stavo pensando una cosa. Si ricorda prima parlavamo della sorella della vittima? Sì. Sì, sta per arrivare all'aeroporto. La sorella della vittima? La sorella della vittima. Ci potresti andare tu ad accoglierla? Ecco, beh, mi sembra un'ottima idea questa. Ma che viene a fare? Ma come che viene a fare? Si viene a prendere la salva della sorella, no? Adesso, ma le pratiche dell'autopsia saranno pronte soltanto la prossima settimana? E infatti è arrivata con un anticipo imprevisto. E adesso te la becchi tu! Cioè, volevo dire, allora sarà compito tuo aiutarla a non perdersi nei meandri della burocrazia. Lolia, mi fido di te. Tranquillo, commissario, tranquillo.